Salvatore Astarita, ne acquisto della Casertana, sei qui da poche ore, che impressioni ti sei fatto di Caserta o dell'ambiente che si respira qui in Via Medaglia d'Oro? Io prima di tutto volevo ringraziare tutti per chi mi hanno dato la possibilità di venire in una grande società, una grande piazza storica. Io personalmente ho sempre desiderato di giocare qui, infatti ci sono stati anche degli screzi in precedente, però sono cose che in campo succedono, non dovrebbero succedere, anzi se qualcuno si è offeso io sono pronto a chiedere scusa, ora faccio parte della Casertana, spero di fare bene, di aiutare i miei amici al raggiungimento dell'obiettivo. Ci sono tutti i presupposti per far bene, la squadra è forte, conosco vari giocatori come Palumbo, Maiella, Platone, tutti giocatori di primo livello. Sei arrivato a Caserta con due anni di ritardo, perché due anni fa venissi a fare un allenamento, l'anno scorso in estate si diceva che dovevi venire tu e Toscano, adesso finalmente puoi indossare questa maglia e quindi provare ad arricchire il tuo parmares di vittoria. Io sinceramente rimasi proprio male quando andai via da qui, se ben ricordi, perché vedendo questo stadio, questa cornice di pubblico, un giocatore ambisce sempre a piazze come queste, però purtroppo ci furono dei problemi che voi sapete, dovevamo andare via tutti, a me dispiace tantissimo, però ora sono qui e voglio dare il massimo per questa maglia e per questa gente. Sarai costretto a Civitavecchia a stare fuori, perché sei squalificato, però già dalla prossima sarai a ruolabile a disposizione del mister. Salvatore Astarita viene a Caserta con un solo imperativo, vincere. Beh, io ogni volta che scendo in campo cerco sempre di ottenere il massimo, cioè la vittoria. Non ho mai giocato per il pareggio, per la sconfitta, mai. Vabbè, a volte anche il pareggio è salutario e non bisogna buttarlo via, però diciamo che sono uno che quando scende in campo si trasforma un po'. Spero di mettere tutto il mio agonismo per questa maglia. Grazie. 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 Grazie.